Il sistema Rocatec è necessario per bloccare e sbloccare automaticamente la ruota. Il cliente spinge il carrello che passa sopra un'antenna nascosta e la ruota automaticamente si blocca. Per sbloccarla deve indietreggiare oltre l'antenna. L'installazione necessita solo di un taglio, pertanto è molto conveniente e permette al cliente un notevole risparmio sui costi. In questa dimostrazione è possibile osservare un dettaglio fondamentale del sistema. La ruota può girare liberamente e continua a girare molto lentamente anche quando si blocca. Questo movimento lento è molto importante. Il blocco totale porterebbe al danneggiamento del battistrada che si consuma in un solo punto creando un fastidioso scalino. Il nostro sistema di blocco è simile al sistema di frenata ABS installato sul tuo autoveicolo.